Anche quest'anno, nel Mese Mariano, si è rinnovata l'esperienza del pellegrinaggio della Fondazione Maik al Santuario della Madonna di Valdibrana. Unendo la Maik, l'iniziativa è stata dell'Associazione Maria Madre Nostra, costituita al suo interno, all'esperienza rinnovata di migliaia di pellegrini, pistoiesi e non solo. È una tradizione che noi non lasciamo perché ci crediamo, anche perché tutte le nostre nuove strutture, vecchie e nuove, sono tutte dedicate in qualche modo alla Madonna. La Maik nasce sotto la protezione di Maria e diciamo che noi si può dire a ragion veduta, non come succede ora, strumentalizzare un po' la Madonna, ma è da tempo, sono da oltre 50 anni che la Madonna ci assiste davvero, perché siamo un po' cresciuti e diciamo anche nel servizio che si va a fare. Quindi noi veniamo anche per ringraziarla e per essere sempre più disponibili a quelli che sono i suoi voleri, perché il nostro problema non è di invocare la Madonna, ma è di imparare a fare la volontà della Madonna attraverso tutte le azioni della vita. Direi che la Maik ha proprio questo, nel suo nome stesso, l'affidamento a Maria, quindi venire qui al santuario diocesano di Valdibrana è qualcosa di connaturale a questa esperienza di carità, di amore, di fraternità, di solidarietà che è la Maik. Quest'anno poi sono presente anch'io come Vescovo e do sicuramente il mio appoggio, tutto il mio appoggio, tutto il mio affetto a questa presenza significativa che è la Maik e insieme con loro, con tutti gli ospiti, gli operatori, i familiari preghiamo Maria che ci assista sempre. È un cammino che indica non solo una salita fisica, ma un cammino costante sulla linea della santificazione trascinati appunto dalla gioia, dalla presenza, dalla freschezza dei ragazzi che frequentano questo centro e anche da tanti giovani che di ogni anno, anno per anno, aumentano. Siamo lieti quest'anno di poter aver utilizzato appieno anche questo ambiente nuovo che ha dato solennità, grandiosità, partecipazione, disponibilità da parte di tante persone e credo che siano stati tutti particolarmente lieti di questo essere accolti nella casa della madre. Grazie a tutti.